Chiediamo la grazia di non accogliere in vano la gratuità di Dio, di non scandalizzare con i nostri comportamenti da mondani o da pagani. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino, celebrata nella cappella di Casa Santa Marta, commentando il brano della lettera di San Paolo e Corinzi, inserita nella liturgia di oggi. Bisogna invece essere liberi dalle passioni e avere un cuore umile, un cuore mite. E' lo scandalo del cristiano, che si dice cristiano, anche va in chiesa, va le domeniche a Messa, ma vive non come cristiano, vive come mondano o come pagano. E' quando una persona è così, scandalizza. Quante volte abbiamo sentito nei nostri quartieri, nei negozi, ma guarda quello, quella, tutte le domeniche a Messa e poi fa questo, 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 questo. E' questo che Paolo dice, ma non accogliere in vano. E come dobbiamo accogliere? Prima di tutto, è il momento favorevole, dice. Noi dobbiamo essere attenti per capire il tempo di Dio, quando Dio passa per il nostro cuore. Noi dobbiamo essere attenti per capire il tempo di Dio,